Lui mi punta la pistola in faccia e mi guarda catatonico, senza dire una parola. Glielo leggo negli occhi che non vede l'ora di fare boom, boom. E nonostante questo, chiunque, senza saperne nulla, me parla male della nuova algina. Ma mette in discussione la tachipirina, me demonizza l'aulin, perché dice che qualcuno gli ha detto che forse fanno male. Sei pazzo? Prendi l'aulin? Quello è troppo forte, ti spacca il fegato l'aulin, ma sei scemo. Usa l'occhi che fa meno male e ti cura allo stesso modo. L'occhi, devi prendere l'occhi, l'occhi è più leggero, con l'occhi svolti. Non è vero, a me l'occhi non mi fa un cazzo. Io voglio l'aulin. E se mi spacca il fegato, fra vent'anni me lo terrapiato. E me ne metto uno di un centometrista di 18 anni, morto in un incidente stradale. E sto meglio di prima, va bene? Voglio l'aulin. Io mi ci nutro con l'aulin. Io mi prendo una bustina di aulin e passa la paura. Appena ho un principio di mal di testa, un pizzicorino alla gola, anche un semplice rodimento de culo. Aulin! Fosse per me, io l'aulin lo userei sulla pasta al posto del parmigiano, così a mani nude.